La morte di Marx Sebastiano Vassalli, Giovanni Tesio Ci siamo finalmente è un libro che abbiamo molto pensato credo che ci abbia anche dilettato tu sicuramente per la parte tua ci hai messo molte cose e anche molto importanti cioè ti sei anche svelato per un buon verso per merito tuo no, no, senza scherzi insomma il merito è tuo che hai toccato i punti giusti gli argomenti giusti ed è venuto fuori direi una conversazione che pensavo in genere sai quando si parla di sé o delle cose che si è vivi così insomma si finisce con l'essere noioso qui mi sembra che ce la siamo cavata non facciamo atti come dire di reciproca piageria perché non siamo persone da piageria né io io devo dire che questo fare questo libro con te mi ha dato molta gioia e questo lo devo dire indipendentemente dal fatto che tu sia qui anche se non fossi qui sarebbe lo stesso ho sentito da parte di chi ne ha già letto alcuni stralci che ti ritrova molto ritrova molto di ciò che tu sei il modo tuo di essere schivo ma anche di rivelarti nel momento in cui credi opportuno farlo e direi che potremmo partire per dire quanto questo libro sia un libro anche di stimoli importanti proprio da queste immagini che lo corredano io vedo due immagini del Ticino che sono bellissime che rinviano naturalmente al mondo dell'oro del mondo che è uno dei tuoi libri dei tuoi libri più belli quanto conta questo mondo ancora per te? conta moltissimo è il mio passato le immagini le ho scelte io personalmente litigando anche con l'editore ci occorreva insomma che ne avrebbe volute altre poi gli andavano bene anche queste ma le immagini sono la parte del libro a cui sono più affezionato tutto sommato e sono anche la parte del libro sicuramente non noiosa per chi conosce questi luoghi e comunque è vissuto ha delle esperienze di vita in qualche modo simili o parallele insomma e ci si ritroverà io voglio non escludere l'editore dalla crescita di questo libro perché un merito che ha l'editore e gli va interamente riconosciuto sono proprio i passaggi tratti dai romanzi che lui mette in esergo ad ogni singolo capitolo devo dire che anche questo fa ricchezza la ricchezza di libro e soprattutto crea un ponte molto preciso tra ciò che tu dici e ciò che tu hai letterariamente detto sono stati scelti bene insomma il vantaggio dei piccoli editori una volta queste qualità le avevano anche gli editori maggiori quella di conoscere per esempio i libri che pubblicavano ora non più e la piccola editoria dà ancora qualche qualche soddisfazione e qualche vantaggio rispetto alla grande editoria ancora una domanda se non siamo se non risultiamo poi alla fine troppo noiosi ma è una domanda a cui potrei rispondere con leggerezza io credo tu nei tuoi romanzi ti sei molto svelato ma in maniera travestita indubbiamente c'è molto di te bisogna andarlo però a cercare ma non nel senso immediato di corrispondenza tra quelle storie che ho raccontato e la mia no io non vorrei mai che si pensasse questo certo che ognuno credo che anche anche Omero c'era del suo in Achillettore e in Ulisse insomma però era molto molto come dire molto alla lontana insomma ecco però in questa in questa intervista di te parli in maniera molto più esplicita e veridica ecco mettiamola in questo in questo senso che cosa può averti spinto a questa stagione qualcuno ha rivelato e io non voglio farti offesa che sei vicino ai 70 che cosa ti può avere spinto a fare questo a deciderti a questo mi hanno spinto gli anni cioè è inevitabile insomma quando si arriva è un po' come quando si sale in montagna che sali è il fiatone e poi a un certo punto ti viene voglia di fermarti e di guardare indietro insomma tutto lì credo credo sia stato un desiderio uno stimolo molto molto istintivo molto naturale insomma senza voler strafare poi senza considerare la propria vita come esemplare da nessun punto di vista perché non lo è insomma però ecco questa questa voglia di fare ordini insomma di come in un paesaggio che si vede dice lì c'è quel paese lì c'è quel campanile quello è il campo locale qualcosa di tipo